Siamo sull'ascensore di Cianney, un uovo che ci ha guardato l'anno scorso, ci porta da 2.100, sembra poco, ma 100 metri di dislivello non è poco, anche perché il sentiero era molto ripido, abbiamo un sentiero esposto bello, siamo a meno 2 gradi centigradi sul livello del mare, e abbiamo il Cervino, aspetta che gira, 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 eccola il Cervino, sono appena un po' velato, però ancora imbacolato, guarda lì la mia montagna, la becca da Rai, guarda lì, guarda che meraviglia, la più bella montagna della Valle d'Aosta, un'altra piramide di granito puro a 3.000 metri, la mia montagna, la montagna più bella della Valle d'Aosta, non ce n'è una più bella, quella è la più bella, la mia! Siamoci a lei, sulla strada che va, che la va di te, siamo a 150 metri, siamo a 2.400, dobbiamo arrivare a 2.530, siamo in mezzo, la montagna è tutta per noi, magnifica! la mia montagna è tutta per noi, 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info